Ciao ragazze, allora oggi il background è diverso, avrete notato subito perché mi trovo nella mia cameretta di Trieste quindi sono Trieste e questa era proprio la cameretta dove avevo iniziato a filmare i miei primissimi, primissimi video se vi ricordate scrivetemelo vi prego perché vuol dire che mi seguite veramente dall'epoca preistorica praticamente ed è strano ritornare in questa cameretta e filmare adesso un video se ci penso mi sembra che siano passati tipo 6, non lo so, 6 settimane, sono passati 6 anni quindi, ma bando alle ciance, sto per annunciarvi due nuovissime tappe del mio tour con Roventa perché appunto il tour sta continuando, questo vuol dire che il tour sta continuando e quindi le prossime due tappe saranno, allora Roma e Napoli, so che siete in tantissima ad aspettarmi sia a Roma che a Napoli quindi sono contentissima, allora sabato 7 novembre sarò a Roma all'Unieuro, Roma-Muratella di Via di Valle Lupara 10 qua mi scrivono anche uscita 31 Gra, località Muratella, appunto Roma, io vi do tutte le informazioni così non sbagliamo e poi invece il giorno dopo, domenica 8 novembre sarò a Napoli all'Expert Mallardo Giuliano presso il parco commerciale Ocean Fair in Via San Francesco a Patria, Giuliano in Campania a Napoli quindi ragazze, queste sono tutte le informazioni, ah entrambe le giornate iniziamo alle 16 quindi dalle 16 in poi, potete venire anche dopo, potete venire anche non lo so alle 18 insomma noi saremo lì, dalle 16 in poi non vedo l'ora di incontrarvi tutte quante appunto so che a Roma e a Napoli siete scatenatissime e quindi insomma sono particolarmente emozionata e poi mi raccomando portatemi cibo, no sto scherzando, specialmente napoletane portatemi cibo che la pizza lì non mi dispiace affatto eppure tutte le sfogliatelle, tutti i dolcetti mamma mia non ci vuole almeno pensare, anche a Roma mangio sempre benissimo cioè se dovessi vivere in Italia veramente ingrasserei di 10 kg in un mese comunque, a parte questi dettagli che con me non mancano mai queste sono le mie prossime due tappe con Roventa quindi mi raccomando sabato 7 novembre a Roma e domenica 8 novembre a Napoli come al solito, non, perché in moltissime me lo chiedete c'è da pagare qualcosa, devo fare qualcosa per venire a conoscerti assolutamente no, non bisogna pagare niente cioè potete venire lì semplicemente per vedermi e non lo so, farvi un'idea di come sono dal vivo a me farebbe tanto tanto piacere vedervi finalmente appunto dal vivo perché riesco a vedere i vostri commenti, i vostri messaggi ma non vi vedo mai e quindi, e poi filmo sempre davanti a una videocamera come in questo momento e voi non ci siete, quindi per me vedervi, avervi lì è un'emozione pazzesca quindi venite mi raccomando, non bisogna assolutamente pagare niente e se volete farvi una foto con me o non lo so, volete una mia dedica o qualsiasi cosa, assolutamente ci facciamo un selfie cioè venite perché appunto possiamo, oppure potete farmi tutte le domande che volete possiamo chiacchierare, insomma non vedo l'ora di conoscervi quindi vi ripeto ancora una volta tutte le informazioni allora sabato 7 novembre a Roma, all'unieuro Roma, Muratella di via di Valle Lupara 10 uscita 31 Gra, il cap è 00050 località Muratella, punto Roma e poi domenica 8 novembre a Napoli all'expert Mallardo Giuliano presso il parco commerciale Ocean Fair in via San Francesco a Patria il cap è 814 Giuliano in campagna a Napoli quindi ragazzi ragazze vi aspetto come al solito non vedo l'ora di abbracciarvi tutti 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 e tutte tutte e niente vi mando un bacio gigantissimo e alla prossima ciao abbiamo l'occasione di conoscerci che insomma il fatto di poter incontrare una di voi e passarci tutta la giornata assieme a chiacchierare insomma mi rallegra molto, questa idea mi piace un sacco e appunto fatemi sapere se piace anche a voi quindi adesso mi sa che è arrivato il momento di spiegarvi cosa dovete fare per partecipare se vogliete partecipare dopo